buongiorno e buona domenica prima domenica di ottobre cari amici ben alzati siamo alle ore 30 di domenica 4 ottobre 2020 veniamo con i risultati dell'evento speciale specialissimo di impact wrestling su impact plus victory road 2020 allora innanzitutto vedo qui c'è stato un incontro di pre show tra i rascals e la tripla xl vinto dai rascals detti da me simpaticamente riscalziati poi andiamo nella main card brian myers ha avuto la meglio su tom dream via conteggio poi roy traio campione in bat x division contro willy mack praticamente vittoria per canta di willy mack quindi da regolamento roy rive ha mantenuto il titolo x division jordan grace contro tenniel dashwood con l'assistenza di caleb conley ha visto la vittoria di tennel dashwood poi nella sanzaccia di tag team match it in reno hanno avuto la meglio su reno sui reno show ma si mose contro tre miga è la vissola vittoria di tre miga al via conteggio poi carl anderson con doc gallows contro Alex Shelley con Chris Sabin contro Asa Austin con l'assistenza di Madman Falton contro Josh Alexander con l'assistenza di Ethan Page in un four corner smash. Ha visto la vittoria di Josh Alexander via conteggio. Poi Deonna Purrazzo campionessa femminile di Invert ha difeso con successo il titolo contro Susie via sottomissione. Poi match finale main event Eric Young non ho ancora visto nulla ma penso che Eddie Edwards avrà venduto cara la pelle ma nonostante tutto Eric Young ha mantenuto il titolo mondiale di Impact e quindi veniamo adesso all'attuale card di Bound for Glory che vede quindi le certezze che Eric Young difenderà il titolo mondiale di Impact contro Rick Swann. Lo stesso vale per Deonna Purrazzo contro Kyle Ray. Nella terza sfide Motor City Machine Guns Alex Shelley e Chris Sabin affronteranno i Good Brothers, Doc Gallops e Carl Anderson contro Id North, Ethan Page e Josh Alexander contro Asa Austin e Madman Falton in un four way tag team match per il titolo di coppia mondiale. Quindi per questo video è tutto credo poi che avanti nella giornata e ne arriveranno di altri. Quindi buon proseguimento di giornata e di domenica a tutti o sapete sul mio canale trovate l'offerta vastissima. Alla prossima. Ciao. Tutto gratis. Tutto gratis. Ci tengo a precisarlo. Ciao.